Ciao a tutti dal salutatore, grandissima sorpresa, ecco per voi il secondo salutatore, ciao ragazzi, grande, ecco ricordiamo tutti i tuoi canali, QsGamer, su Alifan, no, su YouTube, a breve, magari insieme, ecco salutiamo tutti quanti, ciao ragazzi, ciao, direttamente dalla partita del cuore al stadio olimpico, ecco qua, vedi Napoli, io sono della Roma, però sono simpatizzante del Napoli, grande, dai, grande, e quest'anno vi c'è il campionato, lo dico anticipato, no, no, tranquillo, faccio le cose, ciao, ciao, ciao